In Italia sono oltre 23.500 gli immobili confiscati alle mafie, ma non si conosce con precisione il numero di quanti siano utilizzati, forse addirittura poche centinaia. Diverse le problematiche per l'affidamento e il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità, su tutti i tempi biblici circa 10 anni fra il sequestro effettivo ed il concreto riutilizzo sociale. Ecco quindi la proposta, costituire un unico ente per la gestione dell'intero sistema. L'obiettivo è quello di un uso sociale, di una gestione economicamente più efficiente dei beni, più pubblica e partecipata, improntata alla massima trasparenza e che preveda un utilizzo delle risorse esclusivamente destinato alla valorizzazione e gestione dei beni immobili confiscati. Tutto questo verrà affrontato in un convegno dal titolo Obiettivo Legalità, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana ed Università degli Studi di Salerno venerdì alle ore 10.30. Tra i legatori il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, il prefetto Umberto Postiglione, direttore dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, il procuratore generale di Salerno Leoni da Primicerio, Giuseppe Linares, dirigente di direzione investigativa antimafia di Napoli e Marco Imperiale, direttore generale Fondazione con il sud. Si parla di circa oltre 23 mila beni immobili, poi ci sono anche le aziende che vengono confiscate, poterli comunque riutilizzare per quello che possono essere a beneficio della comunità, quindi bene confiscato, bene comune. Questo è un argomento, è un tema per il quale c'è bisogno di poter discutere e fare in modo di trovare delle soluzioni tecniche e strumentali affinché tutta questa esperienza che viene attraverso le istituzioni possano andarsi a concretizzare, a individuare delle soluzioni strumentali di gestione.